Un altro giorno, fatti i personaggi e i temi che lasceranno il segno, con Marcella Cocchi. 5 aprile 2023. Ci sono due casi che incrociano diversi temi secondo me interessanti. Il confine tra vita pubblica e vita privata, il venticello della calugna che diventa un ciclone a volte se le stanze sono quelle della politica e se le dinamiche sono quelle dentro i partiti. Infine, quello che si vuole o non si vuole rivelare di sé, anche se si è vicini a persone importanti della sfera pubblica. Le due protagoniste degli spunti di oggi sono la deputata di Fratelli d'Italia, Rachele Silvestri, e la compagna della segretaria del PDL Ischlein, Paola Belloni. Benvenuti alla nuova puntata di Un altro giorno. Io sono Marcella Cocchi e oggi ospiteremo tre interventi di Paola Tavella, Paola Concia e Flavia Perina, ma andiamo con ordine intanto il primo fatto. In una lettera al Corriere della Sera, la deputata di Fratelli d'Italia, Rachele Silvestri, ex M5S, scoperchia il vaso di Pandora dei veleni delle voci su di lei e su un politico dello stesso partito. Circa un mese fa, una persona amica mi racconta che gira la voce che il mio bambino non sarebbe figlio del mio compagno, ma di un politico molto influente di Fratelli d'Italia, a sua volta sposata, racconta. Mio figlio sarebbe quindi nato da una relazione clandestina, grazie alla quale io avrei anche ottenuto la mia candidatura. Riuscite a immaginare come mi sono sentita? Non bisogna essere una donna per capire la violenza, l'umiliazione. La particolarità è che la deputata ha deciso di far fare il test del DNA per provare pubblicamente che il figlio è davvero figlio del suo compagno. Allora qui sorge una prima domanda. Come si può arrivare a tanto? Perché una donna, una politica, arriva al punto di usare lei stessa dati privati per contrastare una violazione estrema della privacy, che tra l'altro va al di là della veridicità o falsità di quanto è chiacchierato. In realtà la risposta arriva proprio dalla sua lettera. Leggo. Non so chi sia stato, molti però hanno scelto di condividere una evidente calunnia di telefono in telefono, di chat in chat, rendendosi complici di questo schifo e anche molti di quelli che sanno hanno deciso di non parlare. Allora Paola Tavella, esperta di comunicazione femminista, già portavoce di importanti ministri, ci spieghi qual è il meccanismo della calunnia dentro i partiti al di là della, ripetiamo, della veridicità dei fatti, oppure no. Mi colpisce il caso della parlamentare Rachele Silvestri che ha scritto una lettera al Corriere della Sera per difendersi dalle calunnie, per difendere il suo figlio, dalle calunnie che circondano lei e la sua famiglia, cioè la scusa, la maldicenza sul fatto che il bambino non sarebbe di suo padre, non sarebbe del suo compagno, perché ci sono dei partiti che assomigliano più a delle cortiche dei partiti, sono quelli in cui il leader o la leader sono un po' dei sovrani, hanno una personalità molto molto forte e un potere molto molto grande. Allora in quei casi è difficile vedere delle sfide di potere, degli scontri di potere aperti in cui si combatte all'arma bianca, ci sono molto spesso gli altri metodi, appunto la calunnia, l'avvenenamento, l'avvolgimento, la congiura. Mi pare che Rachele Silvestri sia incappata in una vicenda di questo genere. È difficile difendersi dalle calunnie perché appunto non sono sfide a viso aperto, sono parole cattive dietro, mettete dietro le spalle. In questo caso coinvolgono anche un bambino e per difendere i propri figli si cerca appunto di avere delle prove materiali, si cerca una carta che canta, come dice il detto popolare, da sbattere in faccia all'elisco. È evidente che quando si è personaggi pubblici, personaggi politici, la vita privata è ben poco privata e si è posti a correnti anche gelide di ogni tipo, ma in casi come questi si spassa veramente il segno perché si rischia di distruggere una faccia familiare e anche l'equilibrio psichico di un minorenne. Queste cose succedono più frequentemente alle donne che agli uomini perché la cultura in questo paese deve cambiare, deve ripulirsi dalla misoginia che è ancora ancora tanta e da questo punto di vista tutti dovrebbero imparare, uomini e donne, a essere più continenti e a tenersi la malvicenza e i sistematici attacchi alla vita privata per sé. Passiamo al secondo episodio che ci ha colpito. Care giornaliste di Diva e Donna, comunicare a mezzo stampa l'intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne sono stata travolta ma per fortuna non annichilita. Questo scrive sul suo profilo Instagram Paola Belloni, la compagna di Ali Schlein, in merito alla pubblicazione sul settimanale della foto che la ritrae insieme alla segretaria del PD. Il lungo post comincia con una citazione della leader Dem, non mi hanno vista arrivare e quindi hanno tirato fuori teleobiettivi, ma il punto è che la compagna della segretaria del PD ritiene di essere stata offesa nella sua vita privata, ma soprattutto dice che lei, a differenza della Schlein che ha fatto delle battaglie LGBTQ, un punto politico importante, lei dicevo ha il diritto di non essere esposta come la Schlein che è una politica di primo piano. Infatti a questo proposito Belloni scrive che il coming out è una scelta personale. Ha ragione? Su questo ascoltiamo l'esperienza di Paola Concia che ora coordina il comitato organizzativo di didacta ma è stata parlamentare del PD e soprattutto la prima ad essersi sposata in carica con una omosessuale come lei che si chiama Ricarda ed è appunto sua sposa dal 2011. Concia. E' premesso che io sono felice che una donna che ha un'altra donna è diventata segretaria del Partito Democratico. Ellie Klein è stata più sfortunata di me. Anch'io dieci anni fa facevo le queste stesse battaglie in Parlamento e nel Paese e però il mio partito non mi ha premiato anzi io sono stata fatta fuori dal Parlamento per queste battaglie. Quindi mi fa piacere che il Partito Democratico sia cresciuto. Detto ciò anche a me è capitato quello che è capitato anche a Paola la sua compagna. Riccarda siccome ero molto esposta pubblicamente anche Riccarda di conseguenza quando veniva in Italia è capitato che ci hanno fatto molte fotografie. Ci sta diciamo che ci sta ma non soltanto perché amiamo un'altra donna è perché un personaggio pubblico è chiaro che è esposta la sua vita privata in qualche modo. Ma anche in Germania succede. Noi abbiamo avuto un vice cancelliere che aveva un compagno, era sposato e veniva fotografato con il suo compagno. Quindi non succede solo in Italia. Questo ciò noi abbiamo anche vissuto alla luce del sole per esempio. Noelle l'abbiamo fatta apposta. Se fossimo stata una coppia comosessuale io avevo un compagno e era il compagno che mi dava la concia. Quindi però questo mi permette di dire e lo so bene che aver vissuto alla luce del sole perché non avevamo niente da nascondere ha anche aiutato tanti ragazzi e tante ragazze omosessuali a duri e da bene. Allora si può vivere anche normalmente la propria omosessualità senza nasconderti. Detto ciò questo almeno è il fatto che Paola la compagna di Elisline vuole al diritto alla sua fraia. In questo ci sta ovviamente questo sicuriamoci che io non sono d'accordo. Detto ciò è un prezzo che pagano tutte le persone che vivono, che hanno una vita pubblica e così di rilievo come quella di Elisline a cui io faccio un grande bocca al lupo per il suo lavoro. Infine anche per provare a tirare le somme di questi due episodi che come si diceva all'inizio interrogano su cosa è pubblico e cosa è privato, cosa è semplice gossip e cosa calunnia, ascoltiamo che ne pensa l'ex politica ma anche scrittrice e giornalista Flavia Perina. Flavia Perina, che cosa lega il caso della compagna della Schlein e della deputata Silvestri? Il caso della compagna di Elisline e dell'onorevole Rachele Silvestri secondo me sono legati forse a un po' di fragilità femminile perché è per me abbastanza ovvio che donne che scelgono la politica o donne che scelgono di farsi compagna di leader di partiti politici molto importanti devono avere le spalle larghe, un certo tipo di attenzione della stampa e persino una certa strategia del gossip. In Italia sono, non soltanto in Italia, un dato ordinario da moltissimi anni. Sono vent'anni che la lotta politica si fa in Italia e in molti paesi dell'Occidente anche così. Noi vediamo in questi giorni un ex presidente americano che finisce in tribunale sull'orlo delle manette per la vicenda che lo collega all'avventura di una notte con una escort. Abbiamo avuto in Italia il caso di Silvio Berlusconi e delle sue scene eleganti di cui la larghissima parte del giornalismo sapeva molto prima che si manifestassero come caso giudiziario e caso giornalistico. Gli esempi che si potrebbero fare sono decine e decine. La politica, in politica, bisogna farsi le spalle larghe perché purtroppo queste modalità di conflitto politico per un verso e di attenzionamento dell'opinione pubblica per un altro verso sono nell'ordinario. Non si può pensare di uscire da quel tipo di riflettori o di stare lontano da quei tipi di riflettori. Detto questo, soprattutto nel caso di Rachele Silvestri, lei ha fatto cenno a organi di stampa che avrebbero rivelato questo pettegolezzo e quindi ha scritto nelle sue intenzioni per porre fine a questo pettegolezzo prima che tracimasse. Probabilmente la componente, c'è anche una componente differente, c'è una vecchia tentazione della politica ostile alla destra di metterle in discussione i valori che propaganda dicendo che voi avete pubbliche virtù e vizi privati, non siete coerenti con quello che dite, parlate di patria, di Dio, di famiglia, però poi nel privato siete tutti o divorziati o avete avventure o che altro e quindi è un attenzionamento che agli uomini fa meno male in generale. Alle donne molto spesso fa molto più male perché l'avventura, l'occasione, la trasgressione di una donna è vista quasi sempre in modo assai più negativo di quella di un uomo. Ma detto questo, appunto per questo bisogna farsi le spalle larghe e capire che purtroppo per chi crede magari a una politica più seria, la modalità della politica oggi è questa. Grazie per l'ascolto. Come anticipato, un altro giorno si ferma, fa una piccola pausa, ma ritornerà se vorrete stare con noi il 12 aprile dopo Pasqua. Quindi tanti auguri.